Ciao ragazzi come state tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di PaniYouTube E oggi siamo qui su Granny ragazzi, siamo su Granny perché voglio provare a fare una cosa divertente Voglio provare a fare un troll non solo a Granny ma anche ai suoi cloni Quindi per far ciò ovviamente dovrò usare una mod perché solo tramite mod io posso clonare Granny Comunque ragazzi prima di cominciare lasciate qui sotto un bellissimo like Condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale Se volete essere salutati alla fine del prossimo video dovete rispondere a una domanda segreta che farò durante il video Quindi a questo punto direi di iniziare subito, tocchiamo play, tocchiamo qua play Allora come difficoltà io direi di lasciare facile va Perché già comunque siamo pure con più Granny contemporaneamente quindi non complichiamoci di più la vita Possiamo lasciare anche senza il Nightmare, anzi meglio così senza Nightmare Ok giorno 1, giorno 1 ragazzi si comincia dai partiamo qua Fare questo video, fare questo troll Dai alziamoci da questo letto Uh buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti Ah bene bene, anzi più che altro buonanotte perché qua è notte non è per nulla giorno Allora come prima cosa mettiamo un attimo il god mod Così preparo tutto quanto Prepariamo Granny e i suoi cloni Se adesso mi mettessi già senza god mod mi troverei subito Granny che mi colpisce e che troll si fa Allora Granny Wey buonasera Granny buonasera Eh mannaggia a te che non ti lavi i denti Facciamo una cosa Granny Prima di fare il troll saliamo di sopra Vieni vieni oh Saremo sopra e andiamo in bagno Adesso tu vieni qua Mettiti qui davanti Granny allora mettiti qui davanti E lavati i denti Su lavati quei denti Granny Guarda come sono brutti Eh non li vuole lavare Poi vabbè con sto specchio qua E chi è che riesce a lavarsi i denti Ma ancora mia faccia riesco a vedermi Talmente è rotto sto specchio Vabbè Granny adesso usci un attimo fuori dal bagno Che devo fare delle cose eh Granny eh vabbè ma con te in bagno non riesco a fare tutto Vabbè l'ho capita Vuoi già fare il troll Vuoi già fare il troll Granny Allora niente andiamo in garage Poi dopo mi tocca ad andare in bagno Mannaggia a teo Che mi fai fare le cose dopo Allora scendi Adesso scendi eh Ok adesso vieni qua Andiamo in garage Facciamo tutto quanto ragazzi in garage Perché così ho il tempo di spostarmi Prima di far cominciare il troll E poi così posso togliere il god mod Allora ragazzi c'è soltanto una cosa Prima di fare tutto quanto Praticamente i clone di Granny non possono colpirmi Non so perché O almeno durante le prove non possono colpirmi Poi è capace che qua tutti quanti i cloni Ce l'hanno piano con me Quindi vabbè lasciamo perdere La difficoltà di questo troll sarà questo E che io non saprò chi sarà la Granny originale Non saprò chi sarà la Granny che mi potrà colpire Quindi devo fare molta attenzione Quando trollerò il gruppetto di Granny Perché una di quelle Granny mi potrebbe colpire Ok dai Adesso iniziamo tutto quanto Va iniziamo a clonare Tra l'altro ragazzi Volendo io potrei ridurre le dimensioni di Granny Così io potrei indovinarla Ma non c'è gusto Non c'è gusto ragazzi Granny clones Vai Cloniamo Cloniamo Weee Mettiamo un massimo di 7 Granny Weee la Granny No forse 7 No perché il gioco comincia un po' a laggare Quindi forse è meglio diminuirle va Mettiamo 5 Granny va 5 Credo che sia un numero adatto Vabbè E poi io faccio rumore E vabbè Allora mettiamo un attimo il nuovo clip Così ho il tempo di salire sopra E di preparare tutto quanto per il troll Qui dove mi trovo tra l'altro Ah no no Sopra intendevo qui Ok Punto iniziale Tolgo qua il nuovo clip E tolgo il god mod Così possiamo iniziare il troll Vediamo se già qualche Granny si trova qui sotto No Non c'è nessuna Granny Weee la Buonasera Ha ha Ecco qua Qua c'è una Granny Con la sfortuna che ho È proprio l'unica Granny Che mi può colpire Weee Buonasera Granny Vieni 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 Che ti trolliamo per bene Vieni vieni E le altre Granny dove sono? Oh Dove hai lasciato le tue amiche Granny? Dove sono le tue amiche? Eh fai venire qua le tue amiche eh Che non ha senso se non fare un troll solo con te eh Tanto male fare il video come l'altra volta A proposito ragazzi Ho fatto una playlist dove ho raccolto tutti i video di Granny che ho fatto Quindi ve la lascio qui sopra Fra le schede Oh mamma mia Mamma mia C'erano altre Granny lì davanti Oh sta Granny qua però è più veloce delle altre eh Non vorrei dire Weee buonasera altre Granny Buonasera Granny Buonasera Andiamo qui fuori Tanto qua non possono venire Oppure se Ecco qua Weee Granny Qui c'è una Granny Oh non fa niente sta Granny Ragazzi non vorrei dire Ma io vedo tutte ste Granny così Sembra di vedere un mucchio di pazze Che stanno qua a girare per la casa Cioè non mi vedono Granny E allora Che hai fatto alle gambe? Ah questa qui quindi è un clona A quanto pare i cloni sono anche più lenti Ma io le trovo anche più lenti nel cervello a capire Ad essere sincero Vabbè sei da sola non ha senso fare qui il troll Poi se ne va via eh Mannaggia voi oh Ste Granny non vogliono essere trollate Allora saliamo qui dentro Ok con tutte ste Granny ragazzi mi sento di stare in una casa per pazzi Weee buonasera Granny Allora come va tutto bene Hai mangiato eh Hai visto questa Granny qua è cordiale Non fa niente Sta qui Oh sta pure a chiacchierare Allora Granny Hai preso la pillolina Eh no invece quell'altra Granny non è per nulla cordiale Che ha già colpito Mannaggia lei Mannaggia Granny Ero lì che stavo chiacchierando con la sua clone E lei che fa? I colpisce Mannaggia Ok giorno 2 dai Alziamoci da questo letto va Aiaiaiaia Bella schiracchiata come sempre Però mi troverò col piede zoppicante Mannaggia mannaggia Granny Che poi mi ha colpito davanti E c'ho il piede zoppicante Allora Facciamo cadere qua il vasetto Così ho il tempo di uscire Bah Così quasi ragazzi Anche questo vasetto lo userò per dei troll Vediamo se riesco a trollare anche qua I cloni di Granny col vasetto E che? Un Granny fantasma era Non è neanche entrata Vabbè Andiamo qua Prendiamo il vasetto Ok Wey Boh Qui vedo tante Granny girare per casa Ma non capisco niente Wey buonasera clone di Granny Allora come va tutto bene Ah tu hai Anche tu sei cordiale eh Mi raccomando clone di Granny Vai a prendere la pillola Se no diventi come l'altro Granny Che prima mi ha colpito Vabbè Adesso andiamo di qua Vediamo qui se c'è qualcosa Qui ho già tutta la casa L'hanno Devostato Tutti i pezzi abbassati Qui mi sa che vanno più danno i cloni di Granny Che io durante la partita stessa Andiamo sotto Vediamo qua Se riusciamo a fare qualcosa Non so perché però mi trovo con più facilità a muovermi con tanti cloni di Granny Che con una Granny sola Sarà che forse vedendo tanti cloni Boh mi confondo Riesco a giocare meglio Le ultime parole famose ragazzi Le ultime parole Neanche un minuto fa ho detto Riesco a giocare meglio Appena salgo le scale Mi trovo la vecchietta che mi colpisce Mannaggia lei Allora Alziamoci da questo letto di nuovo Con l'altra gamba zoppicante Una volta ragazzi che ho finito qua Mi sa che dovrò pure andare dal medico Perché con tutte queste gambe zoppicanti Buonasera clone Sì salve Salve a tutti Chi è tra di voi clone Siete tutte e tre dei cloni Sì a quanto pare sì Meglio meglio così Salve anche tu sei clone No quella non credo proprio sia clone Granny mi hai lasciato qualcosa per pranzo E non c'è niente Mannaggia a te Granny Mannaggia che non mi fai neanche a vedere Cosa mi hai lasciato da mangiare Ma veramente Di solito le nonnette sono diverse Fanno girare il nipotino per casa E gli fanno fare le varie cosette Qui intanto mi sveglio con delle Granny in stanza Quella Granny Buonasera No quella lì la vedo bella Convinta verso di me Eh Quindi forse è meglio scendere Scendere Comunque dicevo Quello mi ha lasciato Wei buonasera Clone di Granny Buonasera Visto Allora Granny Prendi esempio dei tuoi cloni I tuoi cloni sono delle brave persone Stanno qui Si chiacchiera Oh ragazzi Lo vorresti un video roleplay su Granny Credo che nessuno l'abbia ancora fatto Qui su YouTube Italia Secondo me ci sarebbe bene Allora Vediamo qua Se troviamo qualcosa No vabbè Tanto che devo fare qui ragazzi Questo qua è un video troll Non è un gameplay In cui imparo a scappare dalla casa Però io devo scappare da sta Granny Che la vedo convinta Verso di me E appunto Mi sa che lei è la Granny originale Quindi meglio Andiamo via 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 Saliamo di sopra Wei clone di Granny No 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 Clone di Granny Non metterti davanti alle scale Salve Salve clone di Granny Mettiamoci qua Allora ragazzi Dovrebbe esserci un'impostazione Che praticamente Mi consente di Cambiare il tipo di Granny Cioè mettere il Granny In modalità Nightmare Allora Vediamo qua se lo trovo Next page Nightmare Granny Eccola qua Adesso dovrebbero diventare Tutti come Granny In modalità Nightmare Wei E no più o meno Sono tutte normali Ste Granny Questa qui è una Granny normale Cioè una Granny clone Volevo dire Mi sa che forse È la Granny normale È diventata modalità Nightmare Andiamola a cercare Va Quella Granny Nightmare Sei qui da qualche parte No Ma è sparita Sparita Granny ragazzi Andiamo se di qua No questa qui sarà un'altra clone No no È per nulla clone Per nulla clone Mi ha preso e mi ha colpito Mannaggia lei Ultimo giorno Ultimo giorno ragazzi Adesso Ci alziamo qui per l'ultima volta dal letto Perché tanto è l'ultimo giorno O la volla spacca Ma tanto sappiamo già qua come andrà a finire Allora Però ragazzi Mi metto un attimo sotto il letto Perché è il momento Della domanda segreta Domanda segreta Chi risponderà a questa domanda Verrà salutato alla fine del prossimo video A voi ragazzi Non piacerebbe vedere Una Granny Versone giovane nel gioco Nel senso poter far ringiovenire Granny Tramite una mod Rispondete a questa domanda Non c'è una risposta esatta Chi risponderà Verrà salutato alla fine del prossimo video E adesso direi di iniziare qua Usciamo fuori dal letto Sperando che una di queste Non sia la Granny originale Uè buonasera Tante Granny insieme Come state? Io non so più riconoscere La Granny vera Da quella clone Mannaggia Allora Andiamo qui va Nascondiamoci qui dentro Purtroppo sono senza vasetto Non posso trollare le altre Granny Mi sa che sono le altre Granny Però che stanno trollando me Qui mannaggia a te Granny Sei peggio di un camaleonte Allora E vabbè Vabbè Ragazzi Adesso prepariamoci Al filmato finale va Ma qui durante sto filmato È proprio quello in automobile Granny Proprio quello in automobile Mannaggia a te Mannaggia Dai Su Vieni a prendere va Vieni Sì sì Ciao ciao Te lo faccio anch'io No Mi piace La testa che gira Vabbè Dai Vieni Cioè viene un dolore pure a me A vedere sta scena Cioè quando vedo sta scena qua Mi sento anch'io qua Tipo coinvolto Vabbè ragazzi Io direi di finire qua il video A questo punto Ma prima di concludere Comunque saluto Chi ha risposto Alla domanda segreta Del video precedente Ok ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate qui sotto Un bellissimo like Condividete il video Con i vostri amici Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo in un prossimo video E come sempre Vi auguro una buona giornata Una buona serata E una buona notte Ciao a tutti E una buona notte Grazie per la visione!